Partiti dalle tre cime di Lavaredo lo scorso 6 luglio, sono arrivati ieri a Feltre per la quinta tappa del percorso gli atleti e i rappresentanti della staffetta Lions per la pace. In un momento di attualità complesso e delicato come quello recente, l'iniziativa si trasforma in un mezzo di sensibilizzazione e attivazione per rendere concreta la pace nel mondo. Un messaggio che nasce proprio nel bellunese e che, con il supporto di numerose organizzazioni e dei distretti Lions in tutta Italia, attraverserà ben cinque regioni e troverà ascolto a Roma il 12 settembre. L'ambizione è quella di consegnare al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco la pergamena partecipativa, firmata da tutti i sindaci dei comuni attraversati, e proporre un piano sicuro per la salvaguardia della pace. Ieri ritrovo Amnel per arrivare alle 19.30 in Piazza Maggiore. Presenti il Vescovo e l'Imam, ma anche il gruppo sbandiratori di Feltre. Il dialogo interreligioso è un modo di costruirla la pace, è un modo di testimoniarla, è un modo di chiederla. Dialogare con le altre religioni, con altre comunità, con altre culture è il primo passo verso la pace. Sicuramente non conoscendo l'altro si ha più paura, quindi più si conosce, più si apre il dialogo, più si sente quella pace tra le diverse comunità, le diverse religioni. Tra le proposte concretizzanti il progetto, la richiesta al governo di un organo istituzionale permanente per la promozione della pace, mentre per accompagnare i giovani verso il futuro più consapevolmente, l'idea di una giornata scolastica dedicata a questo valore. Il valore di questa iniziativa è poter parlare di pace, che in questo momento storico dove tuonano i venti di guerra, sicuramente è una possibilità per tutti noi di riflettere sulla possibilità della pace, perché la pace è possibile, è possibile in base alla volontà delle persone. Noi auspichiamo e speriamo che sempre adesso, nel futuro prossimo, nel futuro più lontano, le nostre generazioni possano sempre vivere in situazioni di tranquillità, in situazioni di pace. La staffetta Lions per la pace si propone come solido punto di partenza per un dialogo approfondito di responsabilizzazione civile. Corpi in movimento, battiti di cuore, che devono fondamentalmente risuonare sul tema della pace.